Una buona notizia per il futuro della curva sud dello stadio Uganeo, travolta dall'inchiesta sulla ditta appaltatrice e subappaltatrice. Il cantiere, fermo mai da due anni, è pronto a ripartire. Dopo il dissequesto è stato necessario un nuovo bando per affidare i lavori del progetto, che nel frattempo ha subito le conseguenze dei rincari delle materie prime, sei le imprese che hanno partecipato. Hanno presentato la loro offerta, un numero importante. Vuol dire che i tecnici del comune hanno dovuto fare un lavoro lunghissimo, difficilissimo, perché chiaramente fare uno stato di consistenza di un'opera lasciata a metà è stato un impegno gravoso, ma evidentemente è stato fatto molto bene, perché se ci sono state sei ditte che hanno partecipato vuol dire che è tutto molto chiaro da questo punto di vista. Sono ovviamente un po' rinfrancato da questa partecipazione, perché qualcuno diceva anche che probabilmente nessuno avrebbe mai partecipato a questa gara d'appalto, invece ci sono sei ditte. L'assessore Bonavina non fa pronostici sui tempi, ma questo è un primo buon risultato. Buon lavoro alla Commissione e speriamo che un po' di fortuna ci assista in questa seconda fase di questa importante opera che mi piace sempre ricordare, vede sì la costruzione della nuova Curva Sud dello Stadio Gagno, ma soprattutto vedrà la realizzazione di due nuove strutture che saranno importantissime per lo sport della città.